ben trovati amici di cuoci cuoci oggi parliamo di come affrontare il natale da un punto di vista alimentare lo sappiamo tutti il natale natale non si può assolutamente star lì a pensare di limitarci in quelli che sono i pranzi le occasioni conviviali e via dicendo certamente però dovete capire questo che un semplice ripeto semplice pranzo natalizio ci può portare addirittura in dote dalle 4000 alle 5000 calorie in più e serve pochissimo per raggiungere quelle 4500 calorie se voi pensate semplicemente che una fetta di panettone una fetta di panettone non una due tre quattro cinque fette di panettone porta mediamente qualcosa come 350 400 calorie cioè quello che quasi noi dovremmo consumare in un intero pasto se stessimo a dieta per raggiungere quelle 3 4 5 mila calorie quindi si fa molto presto perché magari cominciamo con degli antipastini e lì magari utilizziamo salse salsine mescoliamo tanti ingredienti molto buoni e carini poi passiamo ad un buon primo piatto e anche qui pensate una mattonella molto piccola di lasagne sfiora le 700 calorie ma una mattonella molto piccola di lasagne non dobbiamo pensare a delle porzioni estremamente abbondanti stessa cosa si fa presto a raggiungere le 6 700 calorie con un secondo piatto discretamente condito e poi vogliamo rinunciare a un po di vino e poi vogliamo rinunciare al brindisi finale e poi vogliamo rinunciare al cotechino con le lenticche o allo spumantino finale oppure alla frutta secca e allora vedete che sommando tutti questi alimenti si fa presto e allora c'è una ricetta magica beh intanto voglio dire godiamoci il natale perché ne abbiamo tutti bisogno e la regola fondamentale è che non si dimagrisce da natale a capodanno ma da capodanno a natale se noi siamo stati bravi tutto l'anno tenendo un certo regime una certa misura perché no concediamoci tranquillamente il pranzo natalizio però possiamo utilizzare una serie di diciamo così misure per cercare di limitare i danni intanto cerchiamo di aspettare tra una portata e un'altra almeno cinque minuti che ci servono per chiacchierare con i nostri ospiti i nostri parenti i nostri amici questo perché in questo modo riusciamo ad allungare molto di più i tempi del pasto e prima arriverà il nostro senso di sazietà se invece utilizziamo le portate come una catena di montaggio ahimè il problema di mangiare di più esiste effettivamente ancora seconda regola stabiliamo una volta per tutte di non concederci assolutamente dei bis già il fatto di predisporci a non farlo ci aiuta sicuramente a risparmiare delle calorie ma non è tutto cerchiamo cominciamo il nostro pasto possibilmente con un aperitivo molto molto semplice con delle verdure crude e magari un carpaccio di pesce un salmone affumicato qualcosa di estremamente lineare e semplice non utilizzando magari particolari salse non abbondiamo poi nell'olio attenzione perché pochi cucchiaini ripeto cucchiaini di olio hanno le stesse calorie di un piatto di pasta e se quindi noi eccediamo nei condimenti anche se non abbiamo ancora mangiato nulla rischiamo di avere un bel po di input calorico e poi non per ultimo godiamoci la giornata mangiando molto lentamente allora già utilizzando queste poche misure voi vedrete che possiamo risparmiare alla fine qualcosa come un 30 per cento di calorie rispetto a quello che avremmo potuto consumare e badate perché il 30 per cento di calorie su un pasto potenzialmente di 3000 calorie capite che già ne possiamo risparmiare quasi 1000 e non è poco dopo però attenzione ci siamo goduti il natale cerchiamo di utilizzare gli altri giorni per recuperare il prima possibile bene vi consiglio per una settimana al mattino utilizzate una buona tisana possibilmente fatta con 30 grammi di tarassaco 20 grammi di cardomariano 20 grammi di curcuma 20 grammi di menta e 10 grammi di semi di cumino estremamente disintossicante drenante aiuta molto il fegato a espellere tutte le tossine e quello intanto è un primo aiuto dopo però mi raccomando almeno nei due giorni successivi cerchiamo di essere estremamente lineari con la nostra alimentazione niente spuntini fuori pasto e magari a pranzo solo ed esclusivamente una minestra di verdure con un secondo piatto molto leggero e la cena fatta allo stesso modo del pranzo se per due giorni riusciamo a far così vedrete che fondamentalmente saremo riusciti a tamponare immediatamente nei due giorni successivi tutto quell'input calorico che però ci ha fatto tanto bene alla testa sicuramente quindi buon natale a tutti e cerchiamo di stare in linea a tutti